la prima nata a livello di vettura è stata dichiarata la chiamata Fleuron perché ha vinto la prima gara in salita nel 71 la gara in Belgio, la setta di Fleuron ed è con Teodoro Zeccoli, quindi una vettura importante perché tra l'altro il telaio ha il magnesio, ha la parte anteriore e posteriore in magnesio e la parte centrale domina acciaio d'acqua, l'alluminio perché sono contenuti i serbatoi 105 gradi, dai 90 ai 65 gradi quando girava 10 minuti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.